Abbiamo deciso di estendere ai prodotti 2021 la nostra garanzia a vita per tutta la componentistica marcata ZIP. Sono dunque incluse le ruote, le curve manovrio, i reggisella e gli accessori. L'obiettivo è quello di essere certi che qualsiasi cliente ZIP, nuovo o vecchio, possa avere la tranquillità della garanzia a vita in caso di incidente che sappiamo può accadere a tutti quando si esce in bici. Qualsiasi incidente in bici durante l'utilizzo dei prodotti 2021 è coperto dalla garanzia. Incidenti come prendere una buca con la vostra bici sono compresi. Se il cerchio dovesse rompersi l'incidente sarebbe coperto dalla nostra nuova garanzia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!